E' un percorso di alternanza su lavoro concentrato sulla musica elettronica Perché comunque è un argomento molto importante e secondo noi molto interessante Perché abbiamo visto anche modi di fare musica alternativi Abbiamo lavorato su strumenti nuovi Strumenti fatti a mano comunque che possono piezoelettrici Attraverso ambienti di programmazione come PD oppure strumenti non convenzionali che abbiamo anche tentato di creare magari a casa Sicuramente abbiamo approfondito, è il campo della tecnologia musicale Redersi conto di come preparare un live e anche registrare presumibilmente Ecco, sono cose che sono sempre utili Ho aumentato la nostra conoscenza nel campo della musica elettronica Noi utilizziamo questo programma anche con i nostri professori di tecnologie musicali Quindi è stato un approfondimento Non so sì, ho fatto anche delle cose un pochino più avanti rispetto al programma È stato interessante Grazie a tutti Per te è stato un programma open source per PC Ma possiamo creare musica attraverso PC Musica in fronte 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 Musica in fronte